E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto, io sono Emiliano e anche questa mattina andiamo a fare il nostro consueto Morning With Crypto, l'appuntamento da lunedì al venerdì ogni mattina per quello che riguarda il mondo appunto della notte, quindi quello che è successo nella notte, notizie della notte, i gainers, i losers di CoinMarketCap delle ultime 24 ore, poi andiamo a vedere anche un rapido sguardo alle chart per capire che è successo appunto in serata. Perché c'è stato un movimento abbastanza importante, ma come sempre prima di partire il mio invito è uno, quello di lasciarmi un mi piace qualora questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro gradimento, a me chiaramente aiuta tanto col canale e in più vi aiuta a rimanere sul pezzo perché sono veramente tanti e è un mercato no veloce di più. Ricordatevi anche di lasciarmi un mi piace e dare un'occhiata ai link che trovate qua sotto in descrizione. Prima di partire con la prima news volevo avvisarvi che oggi è il giorno, oggi è il giorno, quindi vi aspetto alle 13.30 qui sul canale perché ci sarà la premiere dell'annuncio che è un annuncio importantissimo per Afterside, quindi vi aspetto davvero lì numerosi perché sarà un po' un cambiamento epocale per il canale, quindi vi aspetto e spero vi faccia piacere. Dateci ovviamente un'occhiata e ci vediamo più tardi. Partiamo con la prima news, quella di McDonald's, perché McDonald's è sempre stato un nome un po' controverso, un nome dove si ironizza molto nel settore cripto, ci si fa le battute, andiamo ad essere assunti a McDonald's appena dampa eccetera eccetera. Il discorso è che McDonald's in realtà fa abbastanza sul serio perché sono abbastanza furbi e hanno anche loro capito un pochettino come vanno le cose e hanno depositato ben 10 trademarks, quindi specie di brevetti fondamentalmente, per il metaverso. Quindi McDonald's vuole entrare nel metaverso e vorrebbe includere i suoi McCaffè per andare appunto a fare un po' di secondo me inizialmente marketing all'interno di questo settore che è in piena espansione. Ora a me interessa relativamente il fatto che McDonald's voglia lucrare su questa cosa o meglio. Il discorso però è che vi fa capire, e qui non si può chiudere gli occhi, che il futuro è questo ragazzi. A me dispiace quando vedo queste situazioni di estremismo sia negativo che positivo, a me non piace mai né da una parte né dall'altra. Però ragazzi queste sono notizie sistemiche da un certo punto di vista, cioè il metaverso è inglobato nel settore cripto, cioè il metaverso deriva dalle cripto, nel metaverso si scambiano cripto, non si scambiano altro. E il fatto che tutte le aziende più importanti al mondo, perché sono tutte le più importanti al mondo, si stiano dirigendo in tal senso, deve farci ragionare, deve farci riflettere, farci capire, ok cosa sto facendo. Questo non significa che bisogna fare gli all-in sugli NFT, gli all-in sulle coin del metaverso, ok? No, gli ci vuole un'altra competenza, ma vi fa capire come il settore viaggia in quella direzione, dove il futuro viaggia in quella direzione, e quindi, a mio umile parere, è una scelta da capire, ok? Da capire, da approfondire senza fare FUD o FOMO, ma da comprendere quello che è il mondo e dove si va. E a proposito di dove si va, io intanto vi ringrazio perché su Twitter, ieri sera abbiamo raggiunto i 20.000 follower, quindi un risultato clamoroso, veramente, io non so mai come ringraziarvi, però, appunto, grazie, penso sia la cosa più semplice da dire. E vi segnalo, appunto, ve l'avevo già twittato il 14 febbraio, ma è una cosa molto carina, e va avanti fino al 21 febbraio 2021, ok? Alle ore 12, se andate a cliccare su questo tweet che vi ho messo di Max, vi danno dei piccoli step da partecipare, potete vincere un NFT in 20 copie limitate, appunto, l'artista anche italiano ci sta, secondo me è figo, anche perché sapete un po' com'è il mercato degli NFT, quindi tutto ciò che è giveaway di per sé è top, quindi vi invito sul mio Twitter a dargli un'occhiata, perché può essere molto interessante. Così come è interessante il fatto che Warren Buffett sia, alla fine, indirettamente esposto per oltre un billion in Bitcoin e simili, ok? Perché? Perché sappiamo che Warren Buffett gli piace investire nelle aziende. Da quello che risulta dovrebbe avere, appunto, dampato, o meglio, scaricato delle posizioni in Mastercard e in Visa, e invece abbia acquistato un billion di posizioni in aziende crypto-friendly. Ciò significa che, di per sé, è come essere esposti a Bitcoin. Se io acquisto azioni di Coinbase, di per sé, indirettamente, sono esposto, sì, al rischio dell'azienda, chiaramente, che mi accollo, quindi a gain e a loss che può fare l'azienda, ma anche, di conseguenza, a quello che è il settore. Perché, se il settore va male, e anche quell'azienda, immagino che non è che faccia i miracoli, ok? E quindi, di per sé, Warren Buffett, anche lui, si espone al settore crypto. Reputandolo, ok? Attraverso, appunto, quello che è anche alcune aziende. Mi ricordo, ecco sì, qua ne parla di Nubank, che è una banca, appunto, online, dovrebbe essere, che ha una trading platform basata su BTC, ok? Portandosi, anche lui, nell'ottica che quello può essere il futuro. Chiaro che, per investitori di questo calibro, si tratta di diversificazione, ed è quello che io consiglio sempre, cioè, non c'è solo le crypto, ok? Non c'è solo un progetto, a maggior ragione, ma c'è un asset allocation importante da distribuire all'interno di un proprio portafoglio, e questo rimane fondamentale anche da studiare, ok? Perché, se no, si fanno un sacco di errori. E, ve lo dico, in realtà la cosa migliore da fare sempre, studiare, investire nello studio, perché è quello che vi fa risparmiare dei soldi, se sbagliate, ok? Invece, non studiate, risparmiate quel poco di tempo e di soldi per studiare, poi ve li pagate sul mercato, molto spesso. Comunque sia, è molto interessante quello che sta accadendo anche con Warren Buffett, mi interessava più darvi quella di news. Tra i gainers troviamo Rally, che non so bene cosa sia, che fa un più 28, ma vedo un palo verticale, praticamente. Tfuel, che fa un più 12,97. Quantum, un più 12. Avalanche, un più 12. Anche Avalanche recupera abbastanza bene. Axie, un più 11. Nio, un più 10. Teta, un più 10. Drescentraland, un più 10. Vedete, in realtà la giornata di Gier è stata una giornata molto importante, un po' per tanti nomi che sono riusciti a spingere in maniera importante. Tra i losers, in realtà, ne troviamo molto pochi, troviamo un sad Leo, ma va un po' a scontare tutto quel mega pump che c'era stato per l'acquisizione di quei bitcoin, appunto recuperati dall'exchange di Bitfinex, Mino o meno 3, Decrid o meno 3, Erron o meno 1, ma poi, ragazzi, niente di che, stablecoin, stablecoin. E questo ci deve fare un po' ragionare su come la giornata di ieri sia stata una giornata positiva e di come abbiamo chiuso ieri, perché ieri abbiamo chiuso con una candela importante, abbiamo fatto un più 4,80, quasi un più 5%, mettendo 2.000 dollari, praticamente, e chiudendo a 44.785. Nella giornata di oggi siamo andati in leggera correzione nella notte, più che altro, ma stiamo già recuperando. Anche questo potrebbe essere un hammer, chiudesse così sarebbe oro che cola, perché ci darebbe veramente a questo punto la spinta per andare su e andare a prenderci i famosi, probabilmente, 47-50. La zona lì è la zona che sto osservando io come target e lo vediamo bene sul movimento notturno, perché, cosa è successo? A mezzanotte abbiamo avuto appunto questa candela molto forte, anche con volumi interessanti, abbastanza anomali, che ci hanno portato fino a 44.782, dopodiché siamo andati a non avere continuazione, ma ci sta, che abbiamo provato a sfondare questo massimo qui, siamo andati a essere rigettati, abbiamo ritrovato supporto su questa candela qua delle 5 del mattino, in zona 43.7, stiamo recuperando. Quindi il movimento è ancora sideways, ma comunque con dei bulls che stanno dimostrando un pochino più di potenza rispetto ai burst. E a livello di dominance, invece, cosa che sapete, teniamo molto monitorata, guardate un po', è successo quello di cui parlavamo, ovvero una dominance che si blocca in maniera molto forte sulla 12. Ora, non è detto che, scusatemi sulla 200 E, ma non è detto che questa media possa tenerci al ribasso per sempre, ok? Però vi fa capire come è molto sofferta la dominance. Uno, due, tre, quattro, quasi cinque, ok? Tocchi che non sono riusciti a bucarla di un nulla, ok? E siamo rigettati. Quindi, se il mercato dovesse continuare, la dominance scendere, chiaramente vedremo delle altcoin, andare a guadagnare in maniera importante. Altrimenti, vi rimando poi al video di questa sera, dove ne approfondiremo meglio. Total, che rimane sugli 1.95 trillion, bene perché recupera anche lei, deve stare in obiettivo dei 2 trillion, 6 superiori, e superare anche lei la 200, che è fondamentale per il proseguimento del bull market. E direi che ci ammette un po' tutto per l'appuntamento mattutino. Allora, io ve lo ricordo ancora una volta, ci troviamo al 1.30 sul canale YouTube per la premiere dell'annuncio, dopodiché ci vediamo poi la sera con l'appuntamento appunto di Una Visi Tecnica. Detto questo ragazzi, e auguro ancora una volta una buona giornata a tutti. Ciao!